Cambiamo argomento perché il Bostrico sta iniziando a interessare anche la pineta di Clusone. Sei piante poste lungo la strada che attraversa il polmone verde collegando Piario al resto dell'altopiano paressiano seriamente ammalate. Ricordiamo che questo piccolo insetto che scava il legno sotto la corteccia delle piante è in grado di moltiplicarsi rapidamente e l'infezione può interessare rapidamente anche tutti gli arbusti vicini. I pini ammalati sono facilmente riconoscibili, il loro colore cambia infatti da verde a marrone chiaro quando ormai però per la pianta non c'è più alcun scampo. Urge quindi un rapido intervento per bonificare questo tratto di pineta prima che la malattia si propaghi anche oltre i confini comunali. L'amministrazione di Clusone ha dichiarato in questo senso che presto prenderà provvedimenti.